Vi conto di questo fatto. Tutto un giorno, con 100 grammi di pane, io mi mangio e mi carico di mani. Troppo poco per la panza, e tutto un giorno resta senza. La reta mia c'era un cane patuto e sicco come una lucerta che si lancia sopra i miei pane e lo fottivo con la bocca aperta. Ora, com'è affare che mi facevamo e non dico i 100 grammi di pane? Cattissera mi danno solo i piedi da panza a cianci e lo cane ridi. Capisci sto? Tutto un giorno con 100 grammi di pane, io mi mangio e mi carico di mani. Troppo poco ho messo in due panze e tutto un giorno resta senza. La reta mia c'era un cane patuto e sicco come una lucerta si lancia sopra i miei pane e lo fottivo con la bocca aperta. Ora, com'è affare che mi facevamo e non dico i miei 100 grammi di pane. Cattissera mi danno solo i piedi. la panza a cianci e lo cane ridi. Avete capito? Sì? Chiaro? Tutto il giorno con 100 grammi di pane, io mi mangio e mi carico di mani. Troppo poco ho messo in due panze e tutto il giorno resta senza. La reta mia c'era un cane patuto e sicco come una lucerta si lancia sopra i miei pane e lo fottivo con la bocca aperta. ora, com'è affare che mi facevamo e non dico i miei 100 grammi di pane. Cattissera mi danno solo i piedi la panza a cianci e lo cane ridi. Cattissera mi danno solo i piedi la panza a cianci e lo cane ridi. Cattissera mi danno solo i piedi la panza a cianci e lo cane ridi. Il primo luglio 1941 le famiglie italiane erano obbligate ad usare la tessera fascista per 100 grammi di pane al giorno. 100 grammi di pane. Ora, com'è affare cucchino che non mi faccia mangiare per favore? Dammi 100 grammi di pane, capisci? Come facciamo questi 100 grammi di pane? Non potevamo fare niente. Ammo a protestare, capisci? Ammo a protestare per forza. Dammi 100 grammi di pane. das quanti mesi edesca una bomba di pane degli anni. E ora, com'è affare cucchi? Com'è affare cucchi a piano con chi non mi faccia senza il primo pozzo di bene qua perché noi i miei diffati Ammo a ripare agarare per farlo. S橋ò che finisce andare trinalle? Cattissera mi danno solo i piedi la panza a cianci e lo cane bis frank맛. Grazie a tutti. Grazie a tutti.